Sono una ceramista, lavoro l'argilla attraverso la tecnica della maiolica. Per lavorare utilizzo una piastra, dunque livello l'argilla, la taglio e successivamente mi diverto a realizzare diversi motivi e decorazioni. È così che da semplice impasto di terra il mio lavoro diviene un oggetto per la cucina, per la sala da bagno come un portasapone o anche come un gioiello o una scultura. Ed è tutto fatto a mano qui, sono tutti pezzi unici o piccole serie. Dopo l'esticamento il procedimento di lavorazione prevede una prima cottura della terra, poi si passa alla smaltatura che richiede una lavorazione dei diversi smalti ceramici ed una successiva applicazione degli stessi al pezzo. Alla fine si passa ad una seconda cottura per la rifinitura dello smalto. Il passaggio successivo è sempre il più emozionante, aprire il forno e scoprire il risultato. Possiamo modellare la forma e le dimensioni dell'oggetto ma il colore e le fatture dello smalto sono sempre una sorpresa. Ho aperto il mio atelier due anni e mezzo fa, a maggio 2018. Precedentemente avevo affittato per due estati un piccolo locale di fronte all'ingresso della città di Perugie, più o meno all'altezza dell'ufficio turistico. Ho partecipato spesso ad eventi e manifestazioni fieristiche per risporre ai miei lavori. Qui a Perugie ho esposto ai mercatini di Natale, a quelli estivi e a quello del primo maggio. Ormai gli espongo da circa 5 o 6 anni in questo borgo. Ho un sito web su cui sarà possibile comprare direttamente online, altrimenti chi è interessato può contattarmi privatamente per chiedermi un pezzo unico di cui posso inviare foto e disegni affinché corrisponda alla loro richiesta. Infatti produco pezzi di taglia, forma e colore personalizzati che possono essere spediti. Dato che ho sempre la finestra aperta in estate, accade spesso che i turisti siano attratti dalla mia collezione blu e che li sente esclamare «Wow, che blu!». Questo mi fa capire che i miei lavori sono apprezzati, quantomeno dalle persone che sono sensibili all'arte dell'artigianato e della ceramica. Talvolta sento dire che il mio è un lavoro originale e che non si trova ovunque. E questo mi tocca profondamente, in quanto il mio obiettivo è quello di proporre qualcosa di diverso. Ho già avuto clienti provenienti da diverse città italiane, probabilmente anche da Perugia. Quindi, benvenuti a tutti! Benvenuti a tutti!